Il 4-3 del riposto calcio ai danni del Catani FC è ben più di una semplice vittoria, è un'autentica impresa. Tornano a sorridere gli uomini in casacca giallo-verde del riposto che ritrovano un Maurizio Anastasi in formato bomber. Tre reti nelle ultime due gare dopo un lunghissimo stop. Sono parole al miele quelle di Mr. Tomaselli per il suo numero 22 durante l'intervista nel post partita. Ed oltre ad un elogio a tutti i suoi 18 uomini, doveroso dopo l'immane sforzo fatto, Mr. Tomaselli ammette di star lavorando su nuovi assetti in campo. Cambio di modulo in vista? Sì, è stata una partita delle nostre perché noi siamo una squadra che produce tante occasioni gollo e ne subiamo pure parecchie. Oggi abbiamo giocato contro una delle migliori squadre del girone, nello testimoni anche la classifica, una squadra ben messa. E come atteggiamento i miei nei primi 25 minuti della gara non hanno affatto demeritato. Nel secondo tempo la squadra è entrata in campo con la mentalità giusta. Il nostro capitano ha preso per mano i ragazzi, Maurizio Anastasi, passami la similitudine, è come il sole che illumina i pianeti. Lui è il quid in più del riposto calcio e lo dimostra in campo e ha levato le castagne dal fuoco, come si suol dire, con due euro goal. Se è stata incomiabile la partita di Maurizio Anastasi, tre gol nelle ultime due partite, da rientro, quello che non si può assolutamente non sottolineare è come Di Bartolo sul 4-3 con la mano da richiamo ha levato un gran pallone. È stata una grandissima parata. Assolutissimamente sì, fai bene a sottolineare, a me piace parlare di collettivo, però visto che siamo in argomento scendiamo ad analizzare questi dettagli che hai evidenziato tu. Di Bartolo ha fatto sul 4-3 una grandissima parata che fosse l'ha riscattato delle due, almeno due precedenti ingenuità. Mentre per quanto riguarda il nostro capitano, Maurizio Anastasi, non ci sono parole. Tre gol in due partite, abbiamo preso quattro punti, potevamo vincere anche domenica scorsa a Mascolosia, potevano essere sei. Il suo rientro in campo ci dà quella energia, quella carica anche mentale per affrontare questo genere di partite. Oggi c'è stato un cambio interessante per quanto riguarda lo scacchiere in campo. Abbiamo visto un Parisi leggermente più arretrato che ha agito come esterno di centro campo. Sono preludi di un possibile 3-4-3? Potrebbe essere una soluzione tattica per qualche partita un po' più complicata? Magari ci si copre di più? Sì, assolutissimamente sì. Tu hai centrato bene l'argomento. È un cambio che abbiamo messo quando la squadra doveva andare a recuperare il risultato e su quale ci stiamo lavorando durante la settimana. Però non possiamo stravolgere gli equilibri da una gara all'altra perché, ti ripeto, da due mesi siamo stati falcidiati dagli infortuni e quindi non abbiamo potuto provare quello che solitamente dobbiamo provare per attuare questo modulo qui. Sicuramente ora con il rientro dell'organica completo sono soddisfatto dell'atteggiamento mentale dei miei ragazzi e ce la giocheremo a viso aperto con tutte le squadre. Ripeto, oggi abbiamo battuto una delle migliori squadre del girone sciorinando anche delle bellissime azioni da gol. Abbiamo fatto delle cose importanti, abbiamo fatto altre cose meno importanti però alla fine quello che conta è l'atteggiamento. A me interessa l'atteggiamento mentale dei miei ragazzi e il nostro capitano, lo ripeto, lo sottolineo, Maurizio Anastasi, che è quel quid che ci dà la forza mentale per affrontare queste gare di seconda categoria. Situazione e umore rettamente diversi in casa del Catania FC. Mister Daniele Conti, rammaricato per il risultato, non le manda a dire sull'operato del direttore di gara dell'incontro giudicando negativamente il suo operato. Siamo con coach Daniele Conti, coach del Catania FC. Qual è stato il primo pensiero al fischio finale dell'arbitro? Sicuramente è rammarico perché si è persa una partita che probabilmente i miei ragazzi non meritavano di perdere. Ho poco da recriminare perché come sempre, come di solito, hanno dato tutto. Hanno dato forse anche più di quello che, insomma, ogni domenica. però ci sono state le avversità che magari ci hanno penalizzato più del dovuto. Ripeto, sono stati degli episodi che ci hanno penalizzato. Io so come gioca la mia squadra, so che mi posso fidare dei 18 titolari perché ho 18 titolari e lavoriamo da quest'estate. Ripeto, gli episodi ci hanno penalizzato perché non posso giocare una seconda parte di gara in dieci uomini per decisioni arbitrali che non lo so se sono accettabili. Per quanto mi riguarda, a parte che sia di parte, credo che l'arbitro ha deciso di non farci vincere. Siamo stati per due volte in vantaggio e in dieci uomini non mi può lasciare una squadra in dieci uomini e far di tutto per lasciarmi anche in nove quando mi minaccia di buttare fuori un altro ragazzo.